Ancora una vittoria di larga misura che stacca di quattro punti il secondo posto del girone A Under 14 provinciale. Meridiana e Trasoccer sempre più al comando della classifica con tre gare di campionato da disputare, due trasferte con Magica Mister Bianco e New Team Etneo a Ragalda nell'ultima giornata di fine maggio, in mezzo alla Fenice Belpassese alla Duca d'Aosta. Che ieri, dopo un primo tempo un po' sofferto, vista l'ottima disposizione in campo del Ventimiglia, formazione di Lentini, ha visto una vittoria di slancio nei secondi, 35 di gioco. Cambio in formazione nelle prepartite per il tecnico Etna Soccer Salvo Garozzo che deve rinunciare a Medea. Movimenti in difesa dunque con Federico Spampinato centrale e Carrasi che passa a destra, davanti a Mascali in porta e al fianco di Domenico Di Stefano e Scuderi. La Rosa torna titolare e lo fa giocando con Garozzo e Sicurella in mediana. Per l'attacco conferme di Cifala e Cuffari al fianco di Daniel Di Stefano. Poca ma rilevante la cronaca nel primo tempo. Daniel Di Stefano da un lato, ma soprattutto Gimmillaro dall'altro, non la sbloccano. Attaccano gli azzurri catanesi di casa due volte con Sicurella, prima su ottimo lavoro di Cifala e poi su punizione lunghissima di Fede Spampinato, girata nel cuore dell'area di rigore, bloccata da Bosco. Dopo 26 minuti di scena muta, il vantaggio della Messe nasce da un'altra esecuzione da 40 metri del difensore che costringe all'uscita il portiere ospite, interviene Federico Garozzo che realizza l'1-0 da distanza ravvicinata. È il primo di due gol del capitano quest'oggi, ma a ergersi a protagonista nel finale di tempo è Gabriele Mascali. Nanfitò calcia una gran pulizione da notevole distanza e il numero 12 della meridiana Etanasoccheri incassa applausi dal Duga d'Aosta salvando il risultato. Poi dal corner occasione pari di Costantino che la alza troppo di testa. Insomma un Ventimiglia che si conferma tra le migliori del torneo e si ricomincia con un doppio cambio dalla penchina di casa. Si va di peso con Davide Spampinato e Mirabella per attacco centrocampo, fuori Cifala e La Rosa. Il primo dei subentrati accelera dopo tre minuti e mette in mezzo la sinistra. Cuffari fa una grandissima cosa a spalle della porta scorgendo l'inserimento di Mirabella che viene a contatto con Briganti. Calcio di rigore per la verità contestabile ed il Ventimiglia è dello stesso avviso. Ma il rigore che per lo sviluppo di questa ripresa giocata in una sola metà campo sarà solo episodico. Sevi Sicurella con l'aiuto del palo trasforma per il 2-0 di inizio secondo tempo e per il settimo centro stagionale. Al decimo Carrasi dal laterale, Mirabella e Fede Spampinato fanno girare palla da un'ala all'altra. Domenico Di Stefano carica il sinistro a botta sicura e coglie la traversa. Quindi i due assistman si vedono al tiro da fuori su passaggio da sinistra di Garozzo, sfiorato l'incrocio dei pali. Occasione a seguire anche per Carrasi. Siamo al quarto d'ora, cross su corner corto di Cuffari, respinta del Ventimiglia e destro alto del difensore catanese. Ci prova anche Daniel Di Stefano. Bosco, grande intervento salvifico su punizione molto angolata mentre lascia il campo al ventesimo sostituito da Signorelli. Mentre Alessandra Patti sostituisce Carrasi nella destra bassa. Proprio Signorelli ha due ottime palle gol per triplicare. La prima di testa da corner di Sicurella e la seconda su palleggio in corse di Mirabella. I tre scalpitano come altri compagni, tra l'altro in vista degli ottavi playoff del team regionale che scatterà nel weekend e inizierà da Sant'Agata a Militello per la gara d'andata. Intanto, ultimo slot di cambi, Caliper Mascali e al posto di Cuffari entra Foresta che subito si inserisce in quest'assist per Signorelli. Assist di Davide Spampinato e conclusione che non si concretizza al pari di una irruzione in area dell'attaccante che finisce sul palo al ventunesimo e, a seguire, di una girata di sinistro che sfiora il sette al ventitresimo. Due minuti più tardi il 3-0. Sicurella affonda dalla mancina crossando in mezzo ma senza trovare nessuno pronto a correggerla a rete. Foresta la raccoglie quasi dal fondo per l'interno destro di Federico Garozzo che centra il Tris al venticinquesimo. Per il numero 10 della meridiana Eltra Soccer è il nono gol in stagione con il gruppo provinciale. Poi arrotondano gli Spampinato tra il minuto 27 e il minuto 30. Il primo, il difensore, insaccando sul secondo palo da angolo e continuando la striscia positiva di segnature dopo la tripla della scorsa settimana, trionfale a Mister Bianco. Il secondo, girando col sinistro, il pallone del 5-0 e mettendo a segno il centro numero 7 in stagione. Nei sei che restano da giocare, doppia opportunità per Leonardo Foresta che non c'entra per poco la porta e altro palo sul conto, stavolta di Sicurella. Finisce con una manita anche questo match della diciannovesima giornata che per la meridiana Eltra Soccer ha segnato la quindicesima vittoria in 17 gare disputate. Nel primo tempo abbiamo fatto il gol, sì, però ci hanno chiuso molto in difesa e poi nel secondo tempo sono andati i cambi, più fisicità e abbiamo fatto il gol. Diciamo che ogni partita è sempre una storia diversa rispetto al 7-1 di Mister Bianco dove anche lì si affrontava sicuramente una squadra di calibro a giudicare della classifica però sicuramente voi stavolta nel secondo tempo avete dato maggiore ritmo, adesso bisognerà dare un po' di continuità ci sono tre partite alla fine, il titolo è sempre più vicino al titolo per il gioco. Certo, tenere sempre questa concentrazione al massimo e dare sempre il meglio partito dopo partito. Sebi, per te c'è anche un'avventura a livello regionale, bisognerà dare il massimo per poter arrivare anche lì? Certo, dare sempre il meglio anche lì e cercare sempre di arrivare al massimo. Si dedica per la vittoria? A tutti i genitori che vengono a Goddacci e soprattutto alla mia famiglia. Gabriele Mascari, una parata importantissima per te alla fine del primo tempo perché insomma se quel pallone fosse entrato sicuramente la storia della partita sarebbe stata sicuramente diversa. Sì, è stata una bella parata perché se non facevo questa parata il risultato cambiava e i miei compagni anche cambiavano un po' di carattere. Senti Gabriele, la sintonia con l'altro tuo collega che è Nicolo Cali, come vi trovate? Sì, sì, ci troviamo bene, lo trovo bene come compagno e ci incoraggiamo sempre, anche nelle sostituzioni. Allora, tre partite alla fine, quali sono le speranze, le possibilità sicuramente, insomma quelle che ormai il titolo è sempre più vicino e bisognerà a questo punto di centrare un home play, bisogna farle tutte? Sì, dobbiamo portarci queste partite che vengono e ci dobbiamo portare il campionato. Gabriele, la dedica? Ai miei compagni, al mister e alla mia famiglia. Leonardo Foresta, un bel secondo tempo da parte tua, tanti spunti sotto porta e mancato sul gol, peccato, perché veramente ci hai provato tante volte. Ci ho provato e non mi è riuscito niente, non so perché. Vabbè, certo, ancora mancano altre tre partite per segnare. Leonardo, il gruppo, Meritano Etna Soccer, è una bella famiglia, tanti amici sicuramente. Certo, è una bella famiglia. Come ti stai trovando? Bene, molto bene. La dedicava ai genitori e alla squadra.